Ciao a tutti e benvenuti a questa compilazione. Ricordate di usare la funzione di chapter youtube nel video per muovere velocemente sulle vostre famiglie preferite se vuoi farlo. Ho diventato quattro fantasma del servante e ho aggiunto anche ogni linea che il servante ha per quattro fantasma. Ovviamente ci sono anche variazioni come differente ascensioni o costumi, per cui puoi trovare tutto che potrei trovare per ogni servante. Come oggi, il giorno che ho rilasso il video per la versione internazionale o nordamericana del gioco. Inoltre, ricordate di lasciare un feedback sul video per le versioni future. Io continuo di aggiornare il 4 star 1 in futuro. Ci prende un po' tempo, ovviamente, quindi lasciami sapere cosa potrei migliorare da questa versione. inoltre, sempre ricordate di supportare la canzone se vuoi farlo, lasciando un like e un sub. Quindi ora vi lascio il video. Enjoy! Ciao! 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 Buon! Sannanze! Voi, 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 voi! Questo è il mio父ale di Dio! Clarenzo Blast oferr! Io non ho l'euro, ma l'euro per il l'euro. Per il suo nome di lui, i tutti i suoi di di uccideri! Grazie a tutti! 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 , Grazie a tutti! 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 , 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.